Video un po' diverso dal solito, mi dispiace se sembra tutto un po' strano con l'audio e roba del genere, ma dovete comprendere Non sono esattamente al massimo delle mie forze, un po' di febbre, ma nulla di che Non sapevo cosa fare e dal momento che non mi piace starmene qui con le mani in mano Volevo fare una cosa così veloce, senza copione, senza niente, no? Per parlare di un film che ho visto da poco, che si chiama Monaco sull'orlo della guerra Davvero un bel film, devo essere sincero Un film che francamente trovo che si è recitato davvero benissimo E la storia è abbastanza semplice, no? Cioè si parla fondamentalmente dell'incontro avvenuto a Monaco fra appunto Chamberlain e Adolf Hitler Per evitare l'invasione della Cecoslovacchia E principalmente la storia gira attorno a questi due, diciamo, giovani uomini Uno di nome Hugh Legat, l'altro invece un tale Hartman Che sono fondamentalmente un funzionario pubblico britannico E invece l'altro è una specie di diplomatico tedesco o qualcosa del genere Trovo che il film sia davvero molto affascinante per due ragioni Punto numero uno, la figura di Chamberlain Punto numero due, il tema fondamentalmente del bene Ah, dannazione, ok, un po' di catarro Comunque, di bene e di male Ma cerchiamo di capirci Parliamo intanto di Chamberlain Chamberlain è sempre stato visto e ancora oggi lo si vede un po' come un ingenuo Ed in effetti il film è molto bravo Soprattutto alla fine a prendere, o comunque illuminare questo tema qua Cioè dell'ingenuità di Chamberlain O della cosiddetta ingenuità di Chamberlain Perché lui ha tentato di contrattare con Hitler, no? Ha tentato di portare la pace, di evitare la guerra E allora, per l'appunto, no? Viene usato come metafora per parlare appunto di quanto i pacifisti siano stupidi, ingenui Che però appunto non capiscono, no? Che in certa volta bisogna fare gli uomini Andare a combattere la guerra quando è necessario, no? Però la cosa interessante di questo film è che non banalizza così tanto Chamberlain Anzi, quello che fa è dare i meriti a Chamberlain Punto numero uno ti dice però appunto che se non fosse stato per quest'uomo qua L'Inghilterra non sarebbe mai stata pronta per affrontare la guerra contro Hitler Quindi gli accordi fatti a Monaco sono stati utilissimi per l'Inghilterra Per potersi preparare appunto al conflitto con la Germania Ha dato il tempo all'impero e in generale però appunto agli inglesi Di prepararsi per un conflitto con Hitler Quindi in un certo senso Chamberlain ha fatto, ha dato quel tempo lì Ma un'altra cosa molto importante che viene detta alla fine del film Quando per l'appunto ci sono questi politici, no? Questi ministri che parlano con Chamberlain Ci sono, forse sono i diplomatici e roba del genere Comunque sia che parlano con Chamberlain E dicono ma lei si rende conto, no? Che farà la figura dell'ingenuo Che la storia lo giudicherà come un ingenuo Una persona che fondamentalmente ha tentato di fare accordi con, insomma Un individuo che non è esatto, non ha le rotelle tutte a posto E la risposta di Chamberlain è fantastica Dice, io ho giocato con le carte che avevo Queste erano le mie carte Non potevo fare altro Di certo non potevo dire a un intero paese Entrate in guerra così un bel giorno Ed in effetti io trovo che questo tipo di analisi sia giusto Perché sia un'analisi molto giusta Per una semplice ragione Noi tendiamo molto spesso a trattare certi personaggi storici O certe scelte come delle scelte ovvie, palesi, no? Cioè, era ovvio che dovevi entrare in guerra Ma devi comunque comprendere che dietro queste decisioni Ci sono delle persone dietro Cioè ci sono delle persone che dopo devono prendere e andare in guerra Ma con quale faccio? Tu vai da un popolo di... Ok, sai cosa? Voi adesso andate e partite per andare in guerra con la Germania Cioè, Chamberlain ha detto No, se io posso evitare la guerra Lo faccio Faccio tutto quello che è, diciamo, nelle mie mani Per tentare di fermare la guerra Se poi ciò che faccio Mi farà sembrare un ingenuo Amen Intanto ho giocato le carte che avevo Intanto ho giocato la mano che avevo Non sono rimasto di fermo a non fare niente Ed in effetti questa è una critica molto interessante, no? Che muove Chamberlain e che muove il film Perché l'idea è molto semplice Quello che sta dicendo il film è Non è che essere pacifista significa non fare niente Ma significa tentare di risolvere un conflitto O di impedire un conflitto in un modo diverso Perché certo C'è chi dice Ok, io impedisco un conflitto facendo una guerra E c'è invece chi dice No, tento di usare la diplomazia Forse non servirà niente Ma tentare non nuoce Ed in effetti Nel caso di Chamberlain L'unica persona che è stata danneggiata Da questo tentativo È stato Chamberlain stesso Ma l'Inghilterra ha giovato Ha raccolto i frutti Di questo atto di ingenuità Da parte di Chamberlain Ed è una cosa che il film ti dice Prima dei titoli di coda Te lo dice Ti dice Se non fosse stato per questo atto Che tu puoi considerare ingenuo Comunque se non fosse stato per questo atto L'Inghilterra non sarebbe mai stata pronta Per il conflitto L'altra cosa di cui vorrei parlare È per un punto la questione Del bene contro il male Perché generalmente Quando si parla di questi film qua I nazisti sono sempre identificati come cattivi E va bene È ok Anzi dico È giusto così Ma i loro avversari Sono quasi sempre identificati come I buoni assoluti No? Come quelli che Da un certo punto di vista Sono i buonissimi I nemici dei nazisti Sono tutti buonissimi Sono degli eroi Sono dei paladini della giustizia E roba del genere È molto semplice per quello Insomma per la persona che guarda il film Dire Ah ok Vedi Questi sono i buoni Questi sono i cattivi Però quando tu guardi gli inglesi In effetti il film lo fa Che è molto bravo a farlo Ti rendi conto Non è che gli inglesi Sono poi così buoni In effetti c'è questa parte Dove Hartman e Legat Al momento che sono anche vecchi amici Hanno una discussione In questo bar tedesco Hanno una discussione E Hartman E quando Legat dice Voi siete razzisti Legat dice Parlando di tedeschi Voi siete razzisti Voi state costruendo Il vostro impero Sulle spalle di altri Hartman Fa Me lo viene a dire tu a me Inglese Ed in effetti Questo è il momento in cui il film Ti dice Momento Momento So che sembra una battaglia Fra bene e male Ma ti vorrei ricordare Che i nemici di Hitler Non sono una potenza democratica Sono un impero È l'impero inglese Ed in effetti Dobbiamo ricordarci Che l'impero inglese Ha comunque fatto i suoi genocidi Intanto dobbiamo ricordarci La tratta degli schiavi Iniziata dagli inglesi Durante la quale Almeno più di 12 milioni Di persone Se non molto di più Adesso io vado molto a memoria 12 milioni di africani Sono stati portati A lavorare Nelle colonie Del nuovo mondo E durante questi viaggi Un milione e mezzo Di persone Forse anche di più Sono morti Durante questi viaggi qua Perché La mortalità nelle navi Era molto elevata Ovviamente Ci sono degli storici Che ovviamente Tendono a classificare Questo tipo di evento Come un genocidio Perché di fatto Anche se L'intento principale Non era quello Di uccidere queste persone Comunque tu le rimuovevi Da loro cultura Le rimuovevi Da loro ambiente culturale E fondamentalmente Assomavi queste persone In oggetti In oggetti da poter usare Per i tuoi lavori E stiamo parlando Di milioni di persone Stiamo parlando Di 12 milioni di persone Quasi 2 milioni di morti Non è tutto qua Dobbiamo ricordarci Anche i campi di concentramento Già aperti dagli inglesi Quindi prima ancora Dei tedeschi Contriboeri E anche lì Altre decine di migliaia di morti E ovviamente Non possiamo dimenticarci Le atrocità commesse in India In India Stiamo parlando Ed in effetti Vi posso anche lasciare Se volete Degli articoli In descrizione Che voi potete leggere Giusto per informarvi Anche su Insomma Su quelle che sono Le atrocità commesse Dall'impero britannico E voi potete fare Delle cerche Molto più approfondite Ma che vi possono Già far capire Di che cosa stiamo parlando In India Stiamo parlando Per fare un esempio Di almeno 40 milioni di morti Se non molto di più Questi sono i genocidi L'impero britannico Cioè Io so addirittura C'è chi parla Di quasi 100 milioni di morti Bisogna comprendere Che dovunque è andato L'impero britannico Ha fatto i suoi genocidi E non se ne parla Molto spesso Anzi non se ne parla Quasi mai Dei genocidi Che ha fatto l'impero britannico Perché noi Quando pensiamo a genocidio Noi automaticamente Pensiamo a due cose O pensiamo Alla Germania nazista O pensiamo All'unione sovietica Perché per noi Sono quelli Quando Tecnicamente parlando L'Europa Ha già una sua vasta Tradizione di genocidi E l'impero britannico Ne è un esempio Devo essere sincero Questo È un po' il problema Ed è ciò che il film Riesce a A modo suo ovviamente A trattare Cioè che noi Vediamo sempre le cose In questo modo qua Bianco e nero Quindi hai Gli inglesi da una parte Che sono i buoni Tedeschi da l'altra parte Che sono i cattivi Non è così semplice Molto spesso Quelli che noi chiamiamo eroi Non lo sono Cioè Winston Churchill Che noi spesso trattiamo Come questo grande eroe di guerra Era un mostro Ed in effetti Io vi posso anche mettere Se volete In link Che io trovo Che sia un video Davvero molto bello Io trovo che sia un video Davvero molto bello Fatto da Bad Empanada Un canale che seguo Che per punto Vi porta anche tutte le fonti Che avete bisogno Per informarvi di più Sulla cosa È un video di 51 minuti Giustamente Insomma Quando tu fai i video seri Sono più lunghi Che vi può dare tutte le fonti Che cercate Sulla fame nel Bengala Infatti anzi Se addirittura andate a vedere Sotto il suo video Quindi se magari Non volete vedere il suo video Se andate in descrizione Se andate in descrizione Del suo video Lui vi elenca Tutte le fonti Per il suo video Quindi se Magari non volete vedere 51 minuti di video Preferite direttamente Leggerle fonti Lui ve le mette tutte là Senti ancora Questa cosa qua Dove tu dici Vedi questi sono i cattivi E questi sono i buoni Perché ne hai bisogno Hai bisogno nei film Di una narrazione Che ti dica questo Che ti dica fondamentalmente Che da una parte tu è buono E da una parte tu è cattivi Perché se no a questo punto Quando tu ti fermi un attimo E pensi Ok Ma gli uomini che stanno In questo momento Contrastando Hitler Hanno commesso anche loro Di genocidi E li commetteranno anche loro Durante la seconda guerra mondiale Cioè Letteralmente L'impero britannico Era tanto razzista Quanto lo era La Germania nazista In realtà Gran parte dell'Europa Tutta l'Europa Era razzista Cioè Se uno ci pensa Molte delle idee Itleriane Erano in sostanza Condivise Dagli europei Anticomunisti Lo erano tutti Razzisti Lo erano tutti Imperialisti Lo erano tutti Colonialisti Lo erano tutti Genocidi Li avevano fatti tutti Questi film qua Sono film molto intelligenti Però sono costretti A lasciare Questa Diciamo Questi messaggi Un po' Non dico nello sfondo Ma Sono costretti a Tirarli fuori Ma non ad approfondire il tema Cioè Quando per esempio Hartman Come ho detto prima Denuncia Legat O almeno denuncia Gli inglesi Dicendo Sì ma Somma Non è che voi inglesi Non abbiate costruito il vostro impero Sulle spalle di altri Insomma Il film Non può mica Prolungare la discussione Perché se no Altrimenti il pubblico dice Oh cazzarola Ma allora Esattamente chi sono i buoni Non ci sono i buoni Sono tutti i cattivi Sono cattivi da una parte E cattivi dall'altra E Quello è il punto Cioè che Quello che sta avvenendo in Europa Era per lo più Una discussione Fra potenze imperialiste Ma non fra un buono e un cattivo Fra un paladino e un mostro Cioè storicamente parlando Le grandi Le grandi faide Avvenute fra i leader Europei soprattutto Erano faide avvenute Fra persone che Ideologicamente erano Sulla stessa barca Semplicemente Le loro ambizioni Si calpestavano In piedi a vicenda Ma di fatto Non hai mai avuto In Europa Una vera e propria faida Fra potenze Con ideologie Fondamentalmente diverse Con ideologie Completamente opposte Non hai Dei veri e propri Scontri ideologici Cioè Quando vieni a sapere Che Winston Churchill Era tanto razzista Quanto lo era Hitler Ti chiedi Ma allora scusa Qual è la differenza? Dov'è la differenza? Quando ti rendi conto Che gli americani Erano tanto razzisti Quanto lo erano i nazisti Ti chiedi Ma dov'è la differenza? Cioè spiegami qual è La differenza Ideologicamente parlando Ideologicamente parlando Dov'è la differenza? Perché certamente Da una parte Tu puoi dire Beh il mio governo Non è una dittatura Magari una democrazia E ho capito Ma un governo Puoi essere una dittatura Una democrazia Una monarchia Un'oligarchia O quello che ti pare a te Ma se ideologicamente Sei sempre Dalla parte dell'imperialismo Sei sempre razzista Sei sempre uno che fa genocidi Non importa Quel governo che hai Ma vabbè Non voglio Dilungarmi troppo Spero che questo video Un po' strano Vi sia piaciuto Spero di rimettermi presto Ci si vede al prossimo video Statemi bene Ok? Ok?